Avviata la modifica al nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani che prevede l'ampliamento della raccolta domiciliare anche per la frazione organica modica alta, modica bassa e dente. Un cambiamento che questi giorni coinvolge quasi 10.000 utenze visto che la dita sta già provvedendo alla rimozione dei contenitori di plastica dalle strade ricordando ai cittadini di dotarsi del bastello dell'umido reperibile nei punti di distribuzione muniti di carta di identità e bollettatari. I punti previsti per la distribuzione sono Palazzo Azasi lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30 poi mercato ortofrutticolo martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13 esclusi festivi. L'amministrazione comunale di modica ha voluto così potenziare il servizio con l'obiettivo di aumentare la qualità della raccolta differenziata tramite porta a porta al fine di rendere più efficace il servizio e cercare di limitare la raccolta stradale solo nelle zone di campagna. Il cambio del sistema ha in queste ultime ore anche comportato il ritiro dei grandi bidoni di colore marrone che sin dall'inizio della raccolta differenziata sono stati posizionati lungo le vie dei vari quartieri. Al loro posto i piccoli mastelli che i cittadini potranno lasciare fuori dalle proprie abitazioni per consentire il ritiro programmato nelle giornate di martedì, giovedì e sabato mentre il secco continuerà ad essere ritirato il venerdì. Restano quindi invariate le modalità per gli altri materiali, vetro, carta e plastica visto che i relativi bidoni sono stati mantenuti. Il ritiro dei nuovi contenitori da parte degli utenti ha comportato file attese soprattutto nei primi giorni ma il nuovo sistema pur con qualche disfunzione iniziale è stato avviato senza particolari problemi. Una delle ragioni del passaggio quindi dai grandi contenitori a quelli familiari è stata la necessità di selezionare ancora di più il conferimento dell'umido visto che molto spesso all'interno di quei cassonetti marroni era possibile trovare anche altri rifiuti che poco avevano a che fare con l'organico. Con tale sistema invece si potrà meglio controllare il conferimento anche grazie a un codice a barre da cui si può risalire all'identità del trasgressore.